Mercoledì 17 gennaio il LAMMBC Servizi Arezzo sarà in campo a Castelfiorentino per un turno infrasettimanale previsto per la sesta giornata di ritorno. La rimonta vittoriosa con lo Spezzi ha dato un'iniezione di fiducia agli Amaranto che dovranno fare conti con un avversario che negli ultimi giorni ha inserito un ottimo giocatore, come l'Ucraino Giayesta, capace di inserirsi alla perfezione nei meccanismi di Coccia Angiolini. Castelfiorentino nel corso della stagione ha pagato a caro prezzo i tanti infortuni subiti che l'hanno relegate in una posizione di bassa classifica, non consona al reale valore della squadra. Belline, Piscali e Pucci sono infatti giocatori di prima fascia per questo campionato. Per questo motivo l'AMMBC Servizi dovrà limitare sin da subito le bocche da fuoco avversarie per evitare che possano prendere il giusto ritmo partita e sfoderare una prestazione difensiva come quella vista nel secondo tempo di domenica scorsa. L'appuntamento per la prima delle due trasferte consecutive per l'AMMBC Servizi è dunque mercoledì 17 gennaio, palla a due fissata alle 21 al palazzetto di Viale Roosevelt a Castelfiorentino.